Il viaggio della maturità e altri racconti. Con me Laura Capaccioli. Direi che è stata una grande scoperta, scoprire non soltanto il libro ma soprattutto te, il personaggio. Ma come ti è venuto in mente di scrivere questi racconti? Ma non ho deciso di scrivere dei racconti. Quando senti la necessità che ti si creano delle storie in testa, ti sembra di vivere, ti sembra di avere una realtà così nitida che la devi mettere nero su bianco. Poi perché ho scritto dei racconti? E non lo so, ho iniziato a scrivere e quando ho finito di scrivere, perché la storia che avevo scritto era completa per me così, avevo nella lunghezza dei racconti. Quindi sono racconti nati da delle storie che avevo in testa, dalla realtà che mi circonda, dal raccontare il nostro mondo. E' un po' tutta la nostra umanità in realtà, perché hai parlato di 48 personaggi, tutti con nomi completamente diversi l'uno dall'altra. In pratica c'è tutto il nostro mondo. Beh, il fatto, quello del secondo racconto, che è quello più popoloso, non è stato facile né trovare i nomi, né... Io poi me lo so tutti riguardare, mi segnavo appartamento 1, mi segnavo i nomi, appartamento 2, mi segnavo i nomi, perché non volevo mettere i nomi doppi, perché se già con tanti nomi ci mette anche i doppioni, ciao! Però, ripeto, come ho detto prima, potevo anche fare, raccontare la storia di un edificio di sei appartamenti, quindi sarebbero stati meno personaggi, però avevo bisogno di mettere nero su bianco 9, perché sono tante piccole realtà in cui ci troviamo a confronto tutti i giorni. Infatti, un appartamento all'inizio era anche disabitato, perché comunque anche oggi chi è che... non è che tutti abbiamo la possibilità di avere casa, c'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha, c'è chi è in affitto, c'è chi... quindi i personaggi sono diventati così tanti, perché nella mia testa avevo voglia di rimettere quello che è la nostra vita. Abbiamo parlato durante la serata di solitudine, di speranza, che cos'è la solitudine e la speranza? La solitudine è una cosa bellissima, perché io quando sono da solo con la Laura, ragazza, è una figata, cioè la Laura mi adora, mi rispetta, mi vale un bene dell'anima e con lei vado sempre d'accordo, certo ci parlo, qualche volta anche mi ci arrabbi perché magari vede le cose in un modo e secondo me ci sono anche altri modi di vedere, quindi la metto in discussione, la sfido, però poi analizziamo tutto e ci vogliamo sempre più bene. Questo è essere da soli, è diverso invece sentirsi soli, quando tu sei con altri, ti senti solo è una cosa bruttissima, una cosa tristissima, quindi bisogna discernere tra la capacità di stare da soli con se stessi e la capacità di dover convivere con persone che ti fanno sentire sola e la speranza, che cos'è la speranza? Dobbiamo vivere con le speranze, perché purtroppo la quotidianità ci fa vivere a un ritmo con tanti obbligo, con tante necessità, con tanti doveri, che tante volte ti prende la rabbia, l'apatia, la noia, però come fai ad andare avanti con il sorriso? Tutti decantate il mio sorriso, ma per forza, perché comunque ci sono talmente tante cose da sperare, da credere, da voler fare. Ecco, io una cosa, credo, ho paura di affrontare seriamente l'argomento perché ho dei libri a casa nella testa di lettura, ma io voglio iniziare a credere nella reincarnazione, perché? Perché io non ce la faccio mica di qui e quando morirò, sperando che sia a 99 anni come la mia nonna, a fare tutte le cose che c'è in mente. Quindi sono tante le cose da poter fare in questa vita e come le fai? Credendoci, sorridendo, mettendoti alla prova, ma andando avanti con il sorriso. Il terzo racconto ci proietta in un futuro di tecnologia, il mondo tecnologico che però alla fine ha bisogno sempre quell'attimo di nostalgia che ci riporta indietro nel tempo, ci fa ritornare con i piedi per terra, perché ci dice che senza il ricordo del passato non si può costruire il nostro futuro. Assolutamente sì. E poi il terzo racconto parla di questo mondo tecnologico. Io ho messo, allora, la verità è questa, l'avevo inizialmente scritto e ambientato nel 2140. Poi, siccome ho un nipote, quello più grande, che è molto più tecnologico di me, io ho detto, Nico, me lo leggi questo racconto? Ah, zia, no, 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 2040, già sarà troppo avanti, perché ci stiamo facendo prendere troppo la mano, quindi questa cosa la vivremo a breve. Quindi è una realtà che ci troveremo a vivere, che, come ho detto, la tecnologia ci aiuta tantissimo, ci facilita tantissimo, ma perdiamo il rapporto umano, il contatto, il dialogo, le chiacchierate. Ma io tante volte, quando avevo 20 anni, tornavo da Ballaro ad avere qualcosa, fino alle tre macchine, c'era con le mie amiche. Oggi che fai? Sì, buonanotte, passi a casa, ognuno da ciotto ci smandava ciò da su WhatsApp. Ma che tristezza. È un perdere l'umanità, è un perdere il contatto, è un perdere le relazioni, è un perdere la conoscenza. Abbiamo conoscenza tecnologica, ma la coscienza umana la perdiamo. Senti, la nostra vicinanza corporale in questo momento, e qui voglio ritornare ad un altro libro che tu hai scritto, che poi era la tua tesi di laurea, ecco, che significato ha? Chiaramente una vicinanza in questa situazione significa che abbiamo un rapporto comunque di intimità, c'è un certo feeling, un certo dialogo, una certa vicinanza corporea. Chiaramente tutto cambia se fossimo fidanzati e allora parte il braccio, oppure se fossimo a uno stadio. Se sei a uno stadio o a un concerto, sei ancora più vicino con gli altri, perché ci sono delle situazioni in cui il tuo corpo finisce con il tuo corpo. Ma nelle relazioni con gli altri, ognuno di noi ha una specie di cilindro, una specie di bolla di aria che lo protegge, che si sente il suo. E questa vicinanza, a te ti permetto così di starmi così vicino, perché abbiamo bisogno in questa situazione di parlare, di farci sentire, di stare vicino. Ma se ci troviamo in giro verso il piano, ci si saluta a una distanza sicuramente un pochino maggiore, magari ci si dà due baci, però poi, già dal vedere, due persone che non conosci in giro e vedi come stanno vicine, se si toccano, se non si toccano, se stanno, capisci già il tipo di rapporto che possono avere. Io, in questo momento, Laura, rappresento chi sta di là dal teleschermo, cioè il pubblico. E quindi, se c'è questo feeling, tra me e te, in questo momento, significa che c'è anche, con il pubblico, che si sta da davanti. Hai tanti amici, hai tanto affetto intorno a te, e credo che questo sia il successo della tua persona, al di là di tutti i problemi che possono accadere durante la vita, e ci ne capiterà di tanti e ci saranno anche capitati, ma c'è questa speranza perché è data dall'affetto che ci circonda. Beh, come dicevo prima, vivo per fortuna in una società, in una famiglia così numerosa, così vicina, che io non sono mai sola, a parte che quando sono sola sono con quella Laura di prima, che è quella persona speciale di cui parlavo, però il fatto di avere tanti amici, tante conoscenze, di non essere mai sola, è bellissimo, perché uscire con gli altri è sempre un divertirsi, un crescere, un relazionarsi, uno scoprire, uno spettacolare, c'è di tutto, insomma, ci sono varie situazioni, ma comunque ogni volta che esce, ogni cosa che fai, è comunque una crescita, perché anche se una semplice pizza con un'amica, poi comunque torni che sei un po' arricchita dai racconti, dai dialoghi, dalle riflessioni, perché anche se una sera in cui si chiacchiera dell'ultimo vestito che ho comprato che si fa domani, comunque sono riflessioni che ti porti a casa e ci rifletti, magari nascono altri personaggi per altri futuri libri. Hai in mente qualcos'altro per il prossimo futuro? Allora, nel prossimo futuro, il prossimo futuro ci sarà qualcos'altro, però sarà un prossimo futuro non tanto prossimo e è un libro già che ci sta lavorando da tanti anni, perché è un libro completamente diverso, come diceva Chiara, che questi tre libri sono diversi l'uno dall'altro, il quarto sarà ancora più diverso, perché, come sapete, sono laureata in lingue e io ho iniziato a fare viaggi da traduttrice, da interprete, dopo un liceo che non facevo il commerciale, non ho fatto il commerciale, quindi mi sono ritrovata a studiare, come si dice, fattura, fattura pro forma, pagamento, bonifico, ai vari tipi di catene, perché andavo a fare tentata vendita di oro e ho avuto la costanza di riportarmi tutto su carta. Più tutti gli studi che ho fatto, le varie fiere, i vari viaggi, quindi sto cercando di rimettere su carta, su un futuro libro, tutto questo, quindi il prossimo libro sarà un manuale per la corrispondenza commerciale. Quindi prototipi di lettere, fra geologia e vocabolario. Il più vocabolario tecnici del settore oro fa il redamento che oltre al turismo sono gli altri settori che conosco su, come si dice, sono con i piedi a terra. E sarà in inglese, francese e tedesco, però chissà, ancora c'ho tanto materiale da... Anche questa è una prova perché ho avuto la fortuna di conoscere tante cose e la costanza di tenerle, quindi voglio poterle mettere in aiuta agli altri. Beh, il messaggio è chiaro. La capacità di scrivere, quella di Laura, ma soprattutto la voglia di sfogliare un libro, perché sfogliare un libro significa sfogliare la vita. Del libro di Laura Cabaccioli ne parliamo con una psicologa, Chiara Materazzi. È un libro in cui si rappresenta un po' tutto l'arco della vita, dalla solitudine alla ricerca della speranza, dalla partenza da un qualche cosa che ci opprime alla ricerca di un futuro al ritorno al passato. Sì, è un libro veramente completo perché attraversa in un qualche modo tutte le fasce di età e poi l'arco temporale che appunto rappresenta poi un fondamento della nostra coscienza, la presenza nell'essere ora, nel qui ed ora, legata sempre a una nostra memoria storica, di ricordi, di vissuti, più o meno latenti, ma che ci appartengono, e poi l'attenzione verso il futuro che è la progettualità che non si blocca mai, non è solo sotto forma della speranza, ma che è proprio un nostro modo di essere verso. E queste oscillazioni continue, cioè tra la fuga verso la ricerca di qualcosa di sconosciuto, la perdita, il ritorno all'infanzia, la ricerca di nuove soluzioni, rende i tre racconti estremamente diversi, estremamente interessanti, ma sicuramente che tutti e tre toccano temi fondamentali per la nostra società postmoderna. C'è un filo conduttore comunque in tutti questi racconti, anche se scritti in epoche diversi, momenti diversi della vita dell'autrice di Laura Capaccioli. Il filo conduttore sicuramente è la ricerca della genuinità, cioè la realtà attraverso la conoscenza che passa attraverso un'analisi di se stessi che è un parlare con se stessi, non un aspetto di andare in terapia per conoscere se stessi, di appropriarsi della vita attraverso il corpo, l'esperienza, il linguaggio, le relazioni, cioè il vivere in mezzo agli altri o nel parlare con se stessa la profondità delle emozioni umane che poi sono alla fine il fondamento di tutto, anche della nostra intelligenza. I personaggi di Laura sono persone normali con una vita normale, sono però gli eroi del nostro tempo. Sì, perché la normalità è ciò che poi rende straordinaria la vita umana, cioè le persone straordinarie, cioè quelle che verranno ricordate dalla storia, sicuramente hanno un valore, hanno un valore però per chi? Per noi, per la massa passata, presente, futura che comunque rappresenta appunto nella normalità ciò che c'è di straordinario nella razza umana, cioè tutto quel brulichio di cose, di quotidiano che la rende unica come specie. Chi è il destinatario di un libro come questo, di racconti? Tutti, a partire che l'ultimo racconto è perfettamente leggibile anche a un bambino prima di andare a dormire, sicuramente idoneo per la crescita di un adolescente e poi per tutto il resto dell'arco dell'età perché è leggibilissimo, gradevole, comunque tocca appunto temi e un arco temporale della vita che chiaramente ricopre un po' poi tutte le fasce d'età. Giulio Locatelli, abbiamo un altro anello importante raggiunto ai tanti anelli, a questa collana che la Cornucopia sta incassellando giorno dopo giorno, settimana dopo settimana. è vero, questa sera è stata una bella serata, abbiamo avuto un grosso seguito anche di persone che sono venute ad assistere a quello che più che è una presentazione tradizionale è sembrato quasi uno spettacolo, abbiamo avuto la musica, abbiamo avuto gli attori di teatro, abbiamo avuto la psicologa e la scrittrice che comunque hanno dato, hanno fatto una performance fuori da quello che è la tradizione canonica delle interviste. Una bella serata che noi ci proponiamo come associazione La Cornucopia di riproporre con altri autori, autori locali e noi li promuoviamo volentieri d'inverno siamo oppure diciamo nell'autunno al coperto, al chiuso questa sera nella sala del Consiglio del Comune di Subbiano d'estate facciamo queste operazioni culturali dell'aperto e quindi aperti a tutta la popolazione per dare la possibilità a tutti di conoscere i nostri autori locali. È consolante vedere tanto pubblico perché quando si parla di libri non è mai facile un approccio con l'autore magari e con presentazioni come quella che abbiamo fatto questa sera e questo ci consola perché c'è una crescita culturale a cui voi di cui voi siete anche protagonisti. È l'obiettivo principale per cui è nata l'associazione. L'associazione ha proprio lo scopo di diffondere la cultura a 360 gradi a tutti i livelli e per tutti i tipi di cultura quindi la musica la scrittura la poesia la pittura tutto quello che è possibile per far salire il livello culturale. Quando abbiamo iniziato non tantissimi anni fa non sono ancora due anni all'inizio poche persone ci seguivano poi piano piano la popolazione ha capito che avvicinarsi a queste manifestazioni è piacevole è arricchente la bellezza piace lascia il segno e sempre di più il seguito aumenta e questo ci riempie di soddisfazione. È quasi un gioco avete cominciato anzi per gioco facendo giocare nella cultura e siete saliti di tono perché stasera davvero abbiamo toccato un vertice veramente notevole. Sì abbiamo anche diciamo già un programma per l'anno prossimo che di massima sarà un programma dove punteremo molto alla qualità ci sono degli eventi che ora non sto a svelare ma veramente di livello si parla di livello regionale più che provinciale quindi probabilmente quelli che sono le nostre eventi a cadenza mensile ci saranno sempre le camminate le mostre però spiccheranno due o tre eventi di notevole livello perché crediamo che di essere arrivati a un momento tale da dover fare proprio il salto di qualità. Una serata come questa Nicoletta Nicoletta Bruno è l'assessore alla cultura del comune di Subbiano ci riconcilia un po' con tutti noi con il mondo con le tante brutte notizie che ci sono in giro ecco stasera abbiamo parlato di speranza con la nostra autrice del libro che lei ci ha presentato e siamo direi molto soddisfatti e credo anche come amministratrice comunale tu possa portare davvero un qualche cosa di positivo al tuo carniere sì questa sera è stata una serata bellissima con tante persone che sono state veramente coinvolte nella presentazione di questo libro sia da Laura che da Chiara e in particolar modo è venuto fuori l'umanità è quella che si sta perdendo con questa tecnologia con quasi il perdere le vere cose quelle che hanno il più significato della vita ecco Laura ha una sensibilità particolare è riuscita a trasmettere con la sua presentazione del suo libro che invito tutti a comprare e a leggerlo perché anch'io mi voglio emozionare proprio sfogliando le pagine del libro per prendere proprio contatto con la carta e scoprire ogni pagina quello che che verrà dopo quindi lei è riuscita con la sua sensibilità come dicevo a coinvolgersi nel suo mondo con tantissimi personaggi e ritornando e far venire fuori anche quella la fanciullezza che tutti noi dobbiamo comunque mantenere perché questo è il bello della vita la normalità e la gioia che hanno e la genuinità che hanno i fanciulli nello scoprire le cose nello scoprire le novità un messaggio anche di speranza che lei porta avanti e che è sicuramente toccata da anche quello che ha vissuto nella propria esperienza personale ecco ringrazio veramente Laura ringrazio la Cornucopia che anche questa sera ha permesso nella sala consigliare che è il posto più rappresentativo del comune di Subbiano di avere la presentazione di questo bel libro e grazie a te a Virgilio per la tua presentazione perché anche le tue parole sono importanti e ci hanno emozionato grazie Nicoletta aggiungo soltanto una cosa che al di là della bellezza di quello che ha scritto Laura quindi del libro che tutti noi ci apprestiamo io l'ho già letto due volte pensa un po' ecco ma direi che stasera il protagonista è stato proprio lei Laura sì Laura Laura anche amica di se stessa che ha riscoperto anche il valore di stare bene con se stessa da soli con se stessa quindi la solitudine che non è visto come un qualcosa di brutto ma come un qualcosa di positivo e di scoperta delle proprie passioni dei propri interessi interessi e passioni che lei riesce a portare avanti tutti perché è pittrice scrittrice sa benissimo le lingue quindi Laura Capaccioli ecco una donna del nostro territorio una donna giovane una donna dalle grandi capacità ecco questo bisogna fa onore al suo paese fa onore naturalmente anche ai suoi genitori che hanno contribuito a farla diventare la persona che è e a noi ci arricchisce come comune e come humus culturale di questo territorio grazie a tutti